Si è conclusa ieri la diciassettesima edizione della Fiera Expo Due Mari, quest'anno interamente dedicata agli sposi e allestita all'interno del palazzetto Toursport di San Vito dal 31 marzo al 3 aprile. 41 stand riservati al giorno del fatidico sì, dove era possibile scegliere oltre l'abito anche bomboniere, band musicale per l'intrattenimento e l'animazione, ma anche provare acconciature e trucchi per lei e macchine lussuose per lui. Per l'occasione sono state organizzate anche due sfilate, la prima sabato 2 dedicata al burlesque e la seconda ieri per chiudere l'evento, nella quale modelli e modelle hanno sfilato per le firme da sposi più prestigiose della città. Il prossimo appuntamento con la Fiera Expo Due Mari è fissato dal 19 al 26 giugno per la diciottesima edizione denominata Expo Internazionale della Nautica e del Tempo Libero, che si terrà sulla rotonda del lungomare di Taranto, dedicata a tutti gli appassionati.